Alessandro Issi al termine d'Italia-Bosnia, un avversario chiaramente di tutto rispetto, lo conosciamo, che partita è stata? È stata una partita per noi utile, perché comunque non vi dico che l'abbiamo presa come allenamento, ma abbiamo fatto delle prove che ci serviranno per le prossime partite. Siamo felicissimi del risultato comunque, potevamo fare qualcosa in più, sì, però va bene così, le battute sono andate abbastanza bene, anche gli attacchi, qualcuno ha provato qualcosa in più, è stato un allenamento per noi utile, pronto per la Germania, domani che ci aspetta sicuramente. L'Italia chiude questa pull-up al quarto posto, conquistando due vittorie, insomma, il bilancio, il mini bilancio fin qui. Allora, noi siamo contentissimi, abbiamo ottenuto un risultato che non si sentiva da anni, forse non si è mai sentito per la maschile, perché siamo veramente alle stelle, non finisce qui perché noi vogliamo avere di più, ovviamente, e tentiamo di farlo. Domani sicuramente la Germania è un avversario un'altra volta duro da battere. Noi ci proviamo, almeno un set per volta, un pallone per volta, a ragionare e a giocare contro di loro. Poi il campo parlerà, comunque noi siamo per ora, non vi dico soddisfatti, siamo arrivati a un obiettivo, vogliamo andare ancora avanti. C'è una battuta sulle emozioni di giocare un europeo in Italia? È un'emozione fantastica, la federazione, Caorle hanno preparato un evento spettacolare, il mio primo europeo ufficiale. La prima partita avevo il cuore in gola, è una cosa che è stupenda, non tutti possono provare, io la sto provando. Indescrivibile, un'emozione indescrivibile davvero. Grazie mille. Grazie a voi.